Salve ragazzi e benvenuti a 5 minuti, ci siamo in un nuovo video, nel trono delle lucky wars con Simo Flash E-T Andiamo in partita 4, 3, 2, 1 Luggo Frano come eventi FPS Metallo indistruttibile Ho 4 enderpearl e tu hai un supermagnese Ciao Team, una qua sotto Stavo per cadere Lì Non penso che ci sia qualcuno E ci credo, qua c'è una cassa, lo sapevo già Fiamma infinita Me l'ha ripagato eh Karma al contrario Menopi, menopi ecco qui aia 4 3 2 1 buon lag enderpearl più quella la cassa hai anche tu la ender? allora vengo a darti un ender aia no mi stai per sparare esci le no 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 mi sono visto giù non male che anche se l'angolo ha l'abilità il blocco ci non vorrei tirarlo tutti sanno cosa succede se lo tiro siccome sono sfigato prendo TNT e sto anche registrando quindi aspetta ah no stavo per colpirti prova dalla distanza vai quello l'ho visto in aria adesso possono provare quanto queste persone sono sculate senti devo killarti con l'arco perché devo andare al centro con questa enderpearl non ho altre maniere non posso killarlo intanto c'è quello che si è scoperto è morto stavi salendo ma perché non sali più oh ah si è fatto all'interno oddio ho vinto 5 4 3 2 1 buon 2100 basta messaggiare no no overwolf no no overwolf schur spari in diamanti c'è l'alto fortunato il corpo di cristo aspetta ah la palla di Zotobia fatti prima ammazzare quella zombie devo killare anche Foxy mentre laggo ok 12 frecce tanto un arco normale ma l'ho detto bene disgraziato oh oddio no non è buono che esce il regalo è l'arco il coglionito vedendo quanto questa persona è Ez 1 buon 2100 super spada è purtroppo ma il matto è vicino a me cani da cazzi che resta a campionare qui finché non viene è caduto ma che rincoglionito quello è un rincoglionito no 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 ah i highlights no all'arco è un rincoglionito è un rincoglionito è un rincoglionito ci stanno ci stanno istoria e manuksellor che stanno facendo team al centro attenzione attenzione è un kb3 mi sono salvato no lei mi ha fatto volare sono atterrato su un'isola no e purtroppo a me lei me l'ha data cadi? ho vinto proprio per ultima partita del suo registrazione ho vinto simon flash no è uscito dal gioco niente ragazzi spero il video se vi è piaciuto se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al mio canale e di questa persona qui si ok non è un nome non mi interessa no non ce l'hai un nome no è un nick però mmm un like uguale un investigamento a simon flash it e beh ragazzi per questo video è tutto da me e da simon flash è tutto ciao ragazzi ciao